Bene, in questa ora e mezza scarsa che ci manca, come dicevo, affrontiamo la progettazione di queste API e anche la scrittura del codice per implementarle, almeno alcune di queste API. Se non finiamo, io comunque vi carico quello che abbiamo fatto durante questa lezione e poi nel repository React Score Server troverete comunque una soluzione con tutto completo che sarà una soluzione condivisa tra i tre corsi. Però iniziamo dalla progettazione dell'API, quella cerchiamo di farla tutta, quantomeno, magari senza scrivere il readme con tutti i dettagli necessari fino all'ultima virgola, ma quelle essenziali sì. Diamo un'occhiata solo al nostro database per ricordarci che cosa abbiamo nel database. È il database che abbiamo utilizzato tempo fa, quindi non è nuovissimo, però diamogli un'occhiata. Noi abbiamo due tabelle, una tabella che si chiama corsi e una tabella che si chiama esami. Nella tabella corsi ci sono i corsi, che uno ha, diciamo così, nel carico didattico, con codice del corso, nome del corso e crediti del corso. E poi nella tabella esami ci sono i corsi che uno singolo studente ha già superato, identificati da codice del corso, voto e data. E questo codice del corso, se non ricordo male, dalla struttura... Esatto, è chiave primaria e doveva anche... esatto, è anche collegata a... No. Ricordo male. È chiave primaria, però in teoria, io ricordavo così, ma probabilmente non è scritto qui. In teoria noi non potremmo aggiungere un corso nella tabella esami che non sia già presente nella tabella corsi. Quindi non possiamo aggiungere un esame, in teoria, almeno ricordavo che il database fosse stato creato così. Comunque abbiamo queste informazioni, no? Abbiamo per il corso il codice del corso, il nome e crediti, e per l'esame il codice del corso, il voto e la data. Che sono le stesse informazioni che avevamo nel nostro oggetto in React. Se ricordate in corsi avevamo codice, nome e crediti, e in esami avevamo codice, voto e data. Avevamo anche la lode come campo separato, qui le abbiamo uniti in un unico score. Per cui se uno score è 31, in una delle versioni avevamo anche la lode, se uno score è 31 vuol dire che c'è la lode. Quindi questo è il nostro database, che rappresenta le stesse informazioni che avevamo nel nostro progetto React, bene o male. Ora facciamo delle API in modo che il nostro progetto React possa andare a interagire nelle prossime settimane col server e recuperare quelle informazioni, invece di averle scritte nell'oggetto fake courses and fake exams, possa andarli a prendere davvero da questo server. E quindi quando aggiungi un corso lo aggiungiamo nel database, quando cancelliamo un esame lo cancelliamo nel database. E il React sa di queste modifiche, quindi sempre all'ultima versione di tutto. Allora, progettiamo le nostre API. Che cosa potremmo fargli fare? E qui richiedo la vostra interazione, la vostra comunicazione, perché questo pezzo, progettazione dell'API più sviluppo dell'API in Express, sarà un pezzo, sarà praticamente il primo pezzo del Big Lab 2 di lunedì. Quindi se riusciamo a farlo insieme, sicuramente, secondo me, riusciamo a capirlo meglio e quindi poi dovrebbe essere più facile fare il Big Lab 2. Quindi quali azioni vogliamo che il nostro server esponga? Pensando anche al fatto che noi abbiamo già un'applicazione React che fa certe cose. Che informazioni vogliamo comunicare? Vogliamo far sì che gli altri accedano, quantomeno, nel nostro caso? Quali sono le collezioni che possiamo avere nel nostro caso? Se ricordiamo il discorso delle URL. Allora, le collezioni, corsi ed esami, perfetto. Esami di uno studente, suppongo, siano le cose che vogliamo far restituire. Partiamo dalle collezioni e poi andiamo a prendere il dettaglio. Quindi la prima azione potrebbe essere... Scriviamola qui. A posto di action. List all courses. Quindi prendo l'elenco di tutti i corsi. E poi ne avrò probabilmente un altro che prende tutti l'esame. Le collezioni del nostro... Di nuovo, fake courses in React e fake exams in React. Che URL abbiamo per prendere tutti i corsi? Courses. Giustissimo. In realtà, aggiungiamo un pezzettino davanti. Questo. Facciamo iniziare tutte le nostre API con slash API. Così, se abbiamo delle cose nel nostro server che non sono API, possiamo... La URL può essere univoca. Può essere più facile a distinguere. E anche perché è una cosa che non vi ho detto prima. Quando noi scriviamo una root in... Adesso ovviamente non funziona perché manca un pezzo. Ma quando scriviamo una root in express, noi possiamo averne, per esempio courses, noi possiamo avere solo una root che si chiama in questo modo. Quindi noi possiamo scrivere solo una volta app.getcourses, non possiamo scriverlo due volte. Quindi se avessimo per caso bisogno di ottenere anche corsi in altro formato, o non attraverso l'API, ovviamente non possiamo usare... Non possiamo farlo in maniera separata. Però queste root, questi percorsi devono essere univoci. Quindi noi possiamo avere un API courses e un courses che resterà qualcosa che non sono l'API. Ok? Quindi mettiamoci sempre questo API davanti come prefisso. Va bene. Che metodo HTTP utilizziamo per prendere tutti i corsi? Get. Benissimo. Cosa fa questa cosa? Beh, get all courses that a student needs to pass. Stiamo progettando e documentando allo stesso momento l'API. Ora, perché? Perché ovviamente innanzitutto averle progettate ci aiuta poi a implementarle nel modo giusto. come le volevamo. E secondo, perché se noi non fossimo noi a dover sviluppare l'applicazione React che parla con queste API, magari nel vostro gruppo due di voi lavoreranno sull'API nel server e due di voi lavoreranno su React, beh, ai due che lavorano su React non serve avere tutte le API pronte per iniziare a lavorare, gli basta questo documento. Perché hanno già il metodo URL, hanno già l'URL, il GET, e avranno anche già che cosa devono mandare e che cosa ricevono. Quindi possono iniziare già a sviluppare il componente React, la parte su React senza avere un server interamente funzionante. Quindi è importante anche avere questo documento per passarlo in un certo senso dagli sviluppatori che sviluppano le parti diverse, quindi chi fa il server o chi fa il front-end. Poi se siete la stessa persona, ovviamente è meno utile, ma se sono persone diverse, ovviamente è essenziale. Adesso bisogna aspettare che il server sia interamente implementato prima di poter iniziare a implementare qualcos'altro. Quindi si mette nero su bianco quali saranno le API, e quindi sia il server può iniziare a implementarlo, sia l'applicazione del front-end React può iniziare a implementarle. Poi ovviamente si metterà tutto insieme quando tutto è pronto. Qual è il corpo della richiesta? Qual è il corpo della richiesta? Nulla. Qualcuno offre di vuoto. Siamo tutti d'accordo? Che una GET non ha un corpo di una richiesta? Sì. A parte due Matteo? Sì, no? Ok, diciamo di sì. Grazie a chi mette il pollice su. Risposta. Non qual è il corpo della risposta che andiamo a scrivere qui sotto, ma che risposta HTTP ci aspettiamo, nel caso in cui questa operazione vada a buon fine, o nel caso in cui ci sono errori. faccio una GET per avere tutti i corsi. Stato HTTP che mi ritorna, in caso di successo? 200. Perfetto, 200K, cioè 200 che è rappresentato da OK, e questo è success. In caso di errore, perché 404 se è errore? Che cosa non trova in questo caso? Grazie a tutti. Se non ci sono corsi, potremmo tornare a 200K, che non c'è da un vuoto. Sì, sono d'accordo. Perché la richiesta HTTP ha funzionato. ma semplicemente non ci sono corsi che non dovrebbero non esserci, perché questi corsi rappresentano il carico didattico di uno studente, quindi se non ci sono corsi... No, gli errori 400 sono quelli di tipo appunto not found o simili. Anche 500 sono errori. Anche... E anche altri. Quindi questi non sono... Però non è un errore per entrare al client in questo caso, perché se il client chiede API courses su una GET, che errori sta facendo? Se chiedesse API prova, farebbe un errore, allora magari sarebbe corretto dire 404, perché non esiste un API che risponda a quella chiamata. Ma API courses, se l'API è corretta, perché dovrebbe rispondermi errore? Qui siamo nella risposta di questo. Quindi siamo arrivati che c'è nel server una GET che risponde API courses. E nel processare, nel fare la query al database, ci restituisce O200K, oppure ci restituisce qualcos'altro. Sì, c'è una differenza tra 400 e 500, però è più di quel tipo, no? Anche va bene dire gli errori provenienti dal client, però qui non c'è un errore provenienti dal client. Ok, Mario? O Davide, non so se Davide... Qui, ricordiamoci, è la risposta di questa chiamata su questa GET. Ovviamente se uno scrive API prova, gli darà 404, ma lì è express e gli darà 404, non è queste specifiche API. Questa è la risposta della specifiche API. Quindi assumiamo sempre che API courses esista e che risponda a una GET. All'interno, se funziona tutto, gli diamo O200K, oppure gli diamo, per esempio, come diceva Maria Grazia, 500 internal server error. Adesso questo qua lo affiniamo tutta così precisa, poi le altre magari gli diamo un colpo più veloce, senza scrivere tutti i dettagli. Corpo della risposta. Il nostro JSON. Come sarà il nostro JSON? Prima di tutto, è un array o un oggetto? Con cosa inizia? Con array o con oggetto? Oggetto. Altro opinioni? Sarà un oggetto con gli array che rappresentano i corsi. un array di corsi. Giovanni, difendi la tua posizione sull'oggetto. Ok. Allora, dato che vogliamo tutti i corsi, un oggetto con dentro un array di corsi, cosa ci serve l'oggetto esterno? Sì, possiamo metterlo, ma... È un oggetto con un array di oggetti. Sì, potremmo anche farlo così, però ci serve l'oggetto esterno? Forse non tanto. È licito, no? Avere un oggetto con dentro un array, con dentro altri oggetti, però forse l'oggetto esterno ci è un po' inutile in questo momento, no? Perché è un unico oggetto con un nome corsi. Tu dici, Lorenzo, forse anche Giovanni, dice una cosa del genere, no? Un oggetto che si chiama Corsis. Due punti con dentro un array che è dentro degli oggetti e che si chiamano, abbiamo detto, codice. Due punti, non lo so, 0,1, T, Y, M, O, V. name, web application 1, suppongo se qual è il codice giusto, non lo so, e poi cos'è che c'era qui? Crediti. Sei. E poi un altro oggetto, eccetera, eccetera. Possiamo anche farlo così. Sì, questo oggetto esterno ci serve veramente poco, ecco. Ok, sì, no, qui vogliamo tutti i corsi. Quindi questo che cosa deve ritornare? Deve ritornare tutti i corsi. Ci sono dei dati aggiuntivi su tutti i corsi che vogliamo passare? No, direi che non mi viene in mente niente, no? Questo è un API per avere tutti i corsi e noi dobbiamo restituire tutti i corsi. Quindi è lecito fare così, è corretto sintatticamente anche fare così. E in realtà in alcuni linguaggi è preferibile fare così, essere onesti, perché hanno difficoltà a prendere l'oggetto iniziale quando non inizia così, non inizia con una chiave. Però in JavaScript no. Quindi per semplicità non sarebbe sbagliato. Se lo fate può essere anche corretto farlo, però per semplicità, dato che in questo caso non ci serve avere un oggetto che racchiuda tutto, ci basta un array di oggetti. Ok? E qui ovviamente ci sarà un altro codice, e qui dopo, e andiamo avanti così, mettiamo un esempio, no? Quindi questo sarà abo abc, e questo sarà Information System, Security, esiste, è un corso che si chiama così, e che se esiste dici credit, no? Eccetera. Quindi un array di oggetti. Ok? Quindi questo è la nostra API corsi. Quindi uno sviluppatore che riceve questo documento sa che deve, se sta facendo il server, sa che deve fare un metodo GET su questa URL, che se va tutto bene, restituisca esattamente questo formato di JSON. E uno sviluppatore, per esempio React, sa che se fa una GET API Courses e va tutto bene, riceve esattamente questo array di oggetti. E quindi lato React può passificarlo e fare quello che vuole. Siamo d'accordo? Sì. Poi, fatemi copiare questo così lo usiamo come template. Rimaniamo nei corsi. Cosa possiamo fare con i corsi? Prima di passare gli esami, cos'altro possiamo fornire? Cos'altro possiamo fare con i corsi? nel nostro database e anche la nostra applicazione React, quella della settimana scorsa. Prendiamo tutti i corsi, cosa potrebbe anche servirci? Magari. Quali sono le opzioni? Prendere un singolo corso, aggiungere un corso, cancellare un corso, aggiornare un corso. Quale di queste quattro potrebbe servirci? sì, trovare un corso dato il codice, quindi prendere un corso. Va bene. Quindi, get a course by code. Come diventa la URL? Sì, il code. Possiamo scriverlo sui due punti code, possiamo anche scriverlo così. Due punti code serve in express, qui possiamo dire quello è un parametro, possiamo scriverlo come vogliamo. basta che capiamo che quello è un parametro. Va bene anche di punti code. E metodo? Get, perfetto. Corpo della richiesta? sempre nessuno. Risposta, dobbiamo modificare qualcosa? Se troviamo il corso, 200. se ci fosse un problema con la query, 500 interno al server error, ci basta, vogliamo aggiungerne uno. O toglierne uno. Esatto. Se non esiste, possiamo aggiungere 404. Perché questa volta, not found, ha senso che ci sia, perché stiamo chiedendo un codice specifico e non ha detto che ci sia quel codice. quindi 404, not found, e qui scrive, scriviamo wrong code, il codice non disponibile. E la risposta cosa sarà? Sarà ancora un array? Sarà un oggetto. Perfetto. Quindi qui cancelliamo questo, togliamo questo, e abbiamo finito. Quindi questo è un esempio, no, di risposta, perché non è che tutte le volte si tirerà web application, ma questo è un esempio di un tipo di risposta, così lo sviluppatore sa che da una parte avrà questi tre parametri e che questa sarà una stringa, questa sarà una stringa e questa sarà un numero. è possibile anche cambiare il nome del corso, beh, non con la get, potremmo immaginare un metodo di aggiornamento del corso, però con la put, esattamente, però nel nostro esempio, noi abbiamo sempre detto che i corsi sono quelli che uno studente ha nel carico didattico e se non è cambiato qualcosa uno studente non può cambiare il nome dei corsi, i criti del corso o il codice del corso, no? O aggiungere i corsi a carico sì, anche toglierli, però tipicamente cambiarli no, giusto? Quindi se noi stiamo facendo un'applicazione che presenta alcune API per gli esami universitari dello studente, per un'altra applicazione potrebbe aver senso. Quindi noi potremmo avere, se questo server fosse sia per gli studenti che per la segreteria didattica, per esempio, allora avrebbe senso avere tutte le API, ma perché il server è licito che lo faccia, ma noi ci focalizziamo, vogliamo fornirle solo al nostro React score, quindi solo alla parte per gli esami e quindi la parte dei corsi la lasciamo un pochino meno completa perché non ci interessa. Non vogliamo che abbia accesso a quell'informazione del database o faccia quell'operazione del database. Quindi questo anche risponde un pochino alla domanda che ha fatto prima, 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 Jacopo, ma che conosce l'urale del JSON può scaricarci tutto il nostro database. Se noi glielo permettiamo, sì. Se non glielo permettiamo, certe cose non può farle. Quindi per quello che la progettazione va fatta bene. Ora, passiamo all'altra collezione. Quella è l'altra collezione, abbiamo detto, è esami. Giusto? Quindi facciamo copia e incolla del primo perché non mi aspetto grossi cambiamenti. List all exams. La URL come cambierà? Exams. Grazie, me l'ho perso. Direi che il metodo, ma abbiamo capito, che è sempre la GET, la descrizione è GET ALL EXAMS. Prendi tutti gli esami che lo studente ha già passato, in questo caso, sono gli esami passati. Corpo da richiesta nessuno, risposta esattamente come prima. La risposta, vedete, non abbiamo molto da modificare. Sarà di nuovo un array di oggetti in cui però non avremo code, name e crediti, ma avremo code, score, giusto? facciamo fin da 31 e cos'è che c'era? Date. Date, dato che non c'è un oggetto JavaScript che rappresenta una data, almeno mettiamo nel formato che sappiamo aspettarci, quindi per esempio 2021, 0,2, 0,1. E poi facciamo quest'altro score, facciamo 25 e date facciamo 2021, 101, 0, non lo so, 0,3, 0,5. Una data qualunque. Quindi, lo modifichiamo in modo che supporti la nostra richiesta di esami. Ok, boh, cosa ci può servire altro sugli esami? Qui possiamo sbizzarrirci un po' di più sugli esami. Prendo un solo esame, modifico un esame, cancello un esame. Cosa ci può servire? Aggiungere un esame. Pensate all'applicazione No React che abbiamo fatto. Cosa faceva l'applicazione? Aggiungeva sicuramente un esame. Abbiamo il form per aggiungere un esame. Poi cosa facevamo anche? Almeno abilitiamo di fare quelle cose, perché tanto non farle noi. Lo rimuoviamo e lo modifichiamo. Facciamo anche il prendo un singolo esame, che probabilmente non ci serve, però facciamo così, facciamo copia e incolla di questo e lo modifichiamo per riprendere un singolo esame, così facciamo un altro esempio di una get singola. Non so cosa ho fatto. Ok. Quindi get an exam, sempre by code. ma oppure, facciamo così, non facciamolo, tanto penso che abbiate capito, no? Come si va. Facciamo aggiungere, ok? Allora, vabbè, però incolliamo questo sempre. Quindi cosa fa? Add a new exam. URL per aggiungere un nuovo esame. URL per aggiungere un nuovo esame. che URL usiamo, mettiamo, per aggiungere un nuovo esame? Non questa, sicuramente, no? API add exam. se apriamo una nuova pagina alla stessa URL della lista, se siamo in form, noi stiamo facendo il server, eh? Quindi non sappiamo che cosa fa il client, o che cosa sia il client. Potrebbe essere l'applicazione React, potrebbe essere un'altra applicazione, stiamo facendo il server. Quindi non abbiamo il concetto di pagina, non sappiamo cosa sia. Stiamo fornendo una funzione. Quindi sicuramente non api add exam o la stessa URL. API exam add, qualcuno dice, qualcuno dice api exams con put. Allora, se voi ricordate la tabella che abbiamo visto prima, sono tutte tre sbagliate, è api exams, la collezione, non put, put serve per aggiornare, per aggiungere usiamo post. Quindi una post sulla collezione aggiunge un nuovo esame. Non possiamo fare post su un singolo esame perché non sappiamo quale sia l'identificativo di un singolo esame per il server. Quindi noi possiamo solo chiedere il client, chiedere al server, per favore, aggiungimi un esame. Poi il server lo farà. Quindi mentre prima col get partivamo dall'informazione del server e le esponevamo al client, qui invece è qualcosa che il server riceve dal client. Il client non sa come è fatto il database. Non dovrebbe sapere che è fatto il database perché, ripeto, il client potrebbe essere fatto da uno sviluppatore e il server da un altro sviluppatore, che è il caso più comune. Quindi mettiamoci in quella condizione. Quindi aggiungere qualcosa a una collezione post sulla collezione. Ok? Vi ho convinto? Corpo della richiesta. Oggetto con le informazioni sull'esame. Da aggiungere. Siete d'accordo? Direi che siete abbastanza d'accordo. Quindi aggiungiamo anche, descriviamo che cos'è questa cosa, eh? Come ha detto Matteo e voi avete approvato. Quindi questo è un oggetto che rappresenta un esame. Fatemi aggiungere con tutte le sue proprietà. Perché dobbiamo avere tutte le informazioni dell'esame. Quindi codice, score e data. Sennò è incompleto per il server. E ricordiamoci che il content type di questa cosa è ovviamente application.json. Perché sarà un json. Quindi aggiungiamo un esame, per esempio per questo codice qui, qualunque sia, e aggiungiamo un esame, quindi score sarà 26 e qua c'è la date. che sarà 2021 02 23. Non lo so. Ok? Un oggetto che rappresenta un esame. E, attenzione, questo oggetto che rappresenta l'esame è volutamente identico a un eventuale oggetto che verrebbe rest... a questo. Che è l'oggetto che viene restituito attraverso la get. Sempre per coerenza e anche per semplicicarci a tutti la vita, agli sviluppatori la vita, no? Se io ricevo lo stesso oggetto quando lo chiedo e anche quando devo fornirlo, mi è più facile fare tutte le operazioni perché so che avrà esattamente tre campi e so che quei tre campi saranno di quello specifico tipo. Risposta. Qui è un pochino più complicata. risposta. Qual è la risposta che diamo quando l'oggetto viene creato correttamente? È della famiglia 200, ma non è 200. Se lo ricordate, eh, se no. 201. Created. Quindi 201 se va tutto bene e quindi successo. Possiamo restituire, per esempio, un 503 se aggiungiamo un esame già esistente. perché il client potrebbe sbagliare, potrebbe rinviare lo stesso esame già aggiunto, allora lui non può aggiungerlo se già esiste un esame con quell'identificativo specifico. Oppure se la il body se il body della richiesta non è valido, manca un campo. La data non è una data, ma ci ho detto ciao. Se non è valido in qualche modo, quindi non supera la validazione del server con Express Validate, potremmo dare, per esempio, 422 che è entità non processabile perché il corpo non è ovviamente processabile. Questo è un processed entity, un processable entity. Corpo della risposta? una post risponde a qualcosa? Non vuoto. Niente. Una post non risponde. Se volessimo potremmo ritornare l'oggetto, ma è inutile ritornare l'oggetto perché io client ti ho detto per favore creami questo oggetto. Tu mi rispondi l'ho creato e mi rimandi lo stesso oggetto. Ma io lo so già l'oggetto perché te l'ho dato io. Cosa mi serve che me lo rimandi indietro? Si può fare è ridondante perché tanto è qui. Quello che può essere utile non in questo caso perché passiamo nel codice che è l'identificativo univoco dell'esame ma se uno avesse un ID diverso potrebbe essere utile ritornare l'oggetto intero con l'ID per esempio perché l'ID ovviamente il client non lo sa finché qualcuno non glielo rimandi indietro. Ma in questo caso l'ID è il codice quindi non ci serve rimandarlo indietro. Ok? Chiaro questo punto? Allora tipicamente la posto non ha un response body quantomeno in questa pseudo filosofia rest da cui ci siamo ispirati. Può averlo se avete bisogno di mandare delle informazioni che il client intendo non ha. Grazie. 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 Sì, potrebbe tornare un errore diverso se il codice non corrisponde a nessun esame o potrebbe ritornare il 503 comunque. Quindi qui potrebbe essere potremmo utilizzare il 503 come prima generica error diciamo così. Per esempio se aggiungo un esame già esistente oppure se voglio aggiungere un esame il cui corso non esiste potremmo riutilizzare il 503 perché è un errore comunque che arriva dal database che non può aggiungere il corso per esempio. Però sì potrebbe anche un errore diverso della famiglia 500 comunque potrebbe essere quindi si potrebbero utilizzare il 503 Aggiornare un esame URL per aggiornare URL metodo benissimo exams code comunque l'abbiate definito prima con parentesi col minore maggiore oppure col due punti metodo put perché aggiorniamo la singola entità il singolo elemento esame quindi aggiornare un esame esistente dato il suo codice ecco qui abbiamo una scelta abbiamo la scelta più conservativa la scelta un pochino più libera ammettiamo un aggiornamento parziale dell'esame o vogliamo aggiornare un intero esame anche se cambiamo solo la data cosa secondo voi cosa 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 preferireste diciamo così quindi questa cosa qui aggiorna tutto quindi anche se cambiato solo lo score aggiorna tutto oppure passiamo solo lo score se ci interessa aggiornare solo lo score ok io poi vi dico cosa sarebbe più corretto diciamo così seguendo questa filosofia che abbiamo provato adottare però entrambe le risposte possono essere corrette ve lo dico già però sentiamo la vostra opinione io vi dico già quale sarebbe quella che seguiamo qua però per semplicità tutto allora aggiornare tutto è più rapido ma aggiornare parzialmente fosse più corretto pensi più corretto solo lo score allora se noi vogliamo se noi continuiamo a ragionare su elementi e collezioni come abbiamo fatto finora è più corretto aggiornare l'intero elemento perché noi chiediamo con la get il singolo elemento e quindi prendiamo tutto e con la post creiamo un singolo elemento passando tutto e quindi quando lo aggiorniamo è più lineare è più prevedibile aggiornare tutto non solo i campi che vogliamo aggiornare perché se noi volessimo aggiornare score e data ne manderemo due oppure se noi ne mandiamo uno quindi è più facile per lo sviluppatore anche avere lo stesso elemento da aggiornare input sarebbe più corretto fare così è giusto anche aggiornare il singolo elemento se uno volesse ma non è il caso di farlo c'è un altro metodo HTTP che è un pochino più nuovo di questi quattro classici che si chiama patch che si può utilizzare per un aggiornamento parziale quindi uno potrebbe avere la stessa url con patch come metodo per un aggiornamento parziale però si fa nella pratica ma non facciamolo usiamo una put con un aggiornamento intero dando la possibilità di aggiornare tutto l'oggetto non sarebbe il problema di sicurezza un utente potrebbe fare operazione malevole tanto quanto con una post ovviamente perché anche lì aggiunge un intero oggetto sta nel codice del server andare a controllare che per esempio questi campi siano quelli corretti che la modifica sia lecita eccetera eccetera risposte come prima invece del 201 perché non creiamo niente un 200 per dire ok l'aggiornamento è andato a buon fine corpo della risposta niente in questo caso perché come prima potremmo mandare l'oggetto aggiornato ma di nuovo se mandiamo l'intero oggetto al server il client ce l'ha già e se ha già ricevuto un 200 usa quello che ha appena mandato non è necessario che lo rilegga l'oggetto che gli ha ricevuto indietro ce l'ha già quindi come prima potremmo averlo ma probabilmente non ci serve in questo caso non ci serve sicuramente cosa ci manca? ce ne manca uno direi almeno delete la delete è la più facile la url va bene o la cambiamo per una delete? quale metodo usiamo per la delete? rimane la stessa che è il metodo esatto quindi quale metodo usiamo? incredibilmente per la delete usiamo la delete benissimo descrizione cancella un esame esistente corpo della richiesta? non serve giusto perché tanto dobbiamo cancellare quel codice lì è univoco no? quindi non abbiamo bisogno risposta sicuramente non questo 422 una che dice che va bene e una che se non trovo l'edamico il codice quindi questo va bene 503 lasciamolo come error e invece del 200 usiamo una che dice che va bene quindi la famiglia 2 che per esempio è il 204 che è no content quindi è un ok ma non ho contenuto da passarti o anche il 200 può andare bene perché in realtà lui non ha contenuto l'ha cancellato ma non ha fatto nient'altro non ha un contenuto che ha ricevuto che è rimandato indietro no? gli basta che dice ok oppure no non l'ho cancellato notate che tutte queste sono risposte che noi diamo sull'API no? quindi lui mi dice l'ho cancellato poi che cosa il client se ne faccia di questa informazione e cosa il server se ne faccia con questo cancellato non lo sappiamo il client potrebbe dire l'ho cancellato e allora lo prendo e lo metto da un'altra parte ma non lo cancello del tutto lo archivio anche se qui è arrivata una cancellazione e il server anche potrebbe prenderlo dalla tabella e metterlo in un'altra tabella degli elementi cancellati no? quindi noi stiamo specificando l'azione che vogliamo cancellare un esame questo esame non lo voglio più vedere poi che cosa se ne faccia il client e il server di questa azione è responsabilità dello sviluppatore deciderlo in base a quello che sta facendo in base al tipo di progetto che sta facendo ovviamente se lo cancello e poi faccio una get su API exams non devo più averlo poi se io l'abbia davvero cancellato l'abbia spostato l'abbia nascosto l'abbia non è un problema di nessuno cioè non riguarda l'API l'importante è che una volta che ho fatto questa cancellazione se dopo faccio una get su API exams questo esame non ci sta più ok? sì no? andiamo avanti ok allora iniziamo a scrivere il server a questo punto allora abbiamo già installato tutto a express eccetera quindi come prima const express require express e poi const morgan uguale require morgan che serve per il logging quindi ricordiamo questo è per il log quello è express e express validator facciamo const prendiamo i due metodi che ci servono il check avevamo visto nelle slide e poi ci serve anche un validation result uguale require express validator eccolo qua e questo è per validation questo è validation middleware e questo è il logging middleware e poi il DAO il modulo per accedere al database poi facciamo init di express come prima quindi const app uguale express e definiamo anche la porta invece di scriverla const port uguale express di default usa la 3000 noi mettiamo la 3000 uno o un'altra cosa che sia diversa la 3000 perché la 3000 è quella che usa react quindi a un certo punto possiamo avere problemi se usiamo la stessa porta quindi mettiamo in un'altra per esempio la 3000 uno così ci portiamo pronti per il futuro poi impostiamo i middleware con app.use morgan sempre in questa modalità dev e app.use e express.json perché sappiamo che riceveremo delle chiamate in json quindi devo essere pronti a parsificare il corpo in json e questo è un middleware che ce lo fa quindi questo è for parsing json request body poi qui avremo le nostre API e sotto possiamo attivare il server come abbiamo fatto prima quindi c'è quel metodo app.listen che chiede la porta e una callback che faccia qualcosa per esempio console.log server started at http localhost .porta e qui andiamo a scrivere le nostre API non abbiamo tempo di scriverle tutte scriviamo almeno una get e una post così vediamo i due casi diversi in cui uno solo manda e uno solo riceve poi se abbiamo tempo andiamo avanti ma scriviamo almeno queste due e quale get vogliamo scrivere delle tre che abbiamo scritto nel readme è uguale ditemi voi quella su tutti i corsi quella su un singolo corso quella su tutti gli esami tanti metri di suddibilia abbiamo già per tutte tre tutti gli esami ok quindi questa ricordiamoci una get su api slash exams scriviamocela anche qui se vogliamo così siamo sicuri quindi app.get slash api slash exams poi ci serve il nostro rec e res va bene così facciamo poi un post di un nuovo esame o un put uno dei due modifichiamo questa lista va bene sono d'accordo e un rec e un res e poi ci serve una la callback come prima ok allora cosa facciamo in questo metodo in questa route cosa deve fare il server cosa scriviamo qui dentro anche non i codici ma concettualmente cosa scriviamo dobbiamo fare una query al DB allora andiamo a vedere come si chiamava giusto andiamo a vedere in questo modulo DAO come si chiamava la query per prendere tutti i corsi tutti gli esami si chiamava list exam è già fatta e se va tutto bene ci ritorna una un array di esami che casualmente è esattamente quello che ci serve con code score date cioè non casualmente ma ovviamente l'ha già fatta in maniera utile che ci servisse con code score e date che sono quello e se c'è un errore nel database ci restituisce quest'errore e noi sappiamo che se c'è un errore nel database andiamo a vederlo cosa dobbiamo fare dobbiamo restituire 500 no dobbiamo restituire 500 ok quindi il metodo si chiama list exam ed è un metodo che torna una promise quindi DAO punto list exams metodo che non ha parametri perché tanto prendiamo tutti gli esami giusto fatemi controllare ma sì ok non ha parametri ora la promise vogliamo gestirla con async e await o vogliamo gestirla col punto den possiamo anche farne una e una se volete però ditemi voi come siete più col punto den allora se ricordate col punto den vuol dire che la promise torna resolve quindi in questo caso abbiamo la query che è andata corretta allora punto den exam exams e in questo caso chiamo res punto json di exams no se va tutto bene prendiamo l'oggetto esame che era già un array di oggetti che casualmente è esattamente quello che si leva a noi e perché il database lo restituisce così ritorna già un array di oggetti quindi abbiamo solo nel nel DAO in questo metodo di esame abbiamo solo cambiato eventuali la chiave diciamo così dell'oggetto il primo valore la proprietà dell'oggetto se si chiamava diversamente la date score e code l'abbiamo dato il nome che ci aspettiamo nel nell'API e boom se c'è un errore e questo ritorna già il 200 e siamo tutto a posto perché il json ritorna se c'è un errore non possiamo gestirlo nel den ma dobbiamo gestirlo nel punto catch punto catch e in questo caso nel punto catch scriviamo res punto status 500 punto end perché ricordiamoci questo imposta lo stato ma non lo manda non manda la risposta quindi ci serve il punto end per mandare la risposta allora se non ho fatto errori lanciamolo voi potete scrivere sia nodemon server per lanciare il file specifico se il file specifico è indicato qui come main nel package json come main dovrebbe bastare scrivere nodemon il metodo list exam è rifinito in DAO che abbiamo importato che l'altro file è quello che fa le query su db luca quindi se adesso a questo punto se non ho fatto errori soprattutto col den e col catch andiamo a scrivere localhost e basta localhost 3001 ci dice cannot get slash perché non abbiamo un API che si mappa sullo slash se scrivo slash API slash exams vedo in effetti il json con i due corsi che sono nel database i due esami che sono nel database quindi un array di oggetti io ho un plugin di chrome che mi formatta il json in maniera più carina mi permette di chiuderlo aprirlo eccetera voi magari lo vedete diversamente ma l'importante è che ci siano queste cose ok quindi pare che funzioni facciamo cosa facciamo la post o la put cosa preferite non cambia non sono tanto diverse in realtà quindi fatta una fatta l'altra quasi la put siete d'accordo sulla put se già qualcuno prima diceva la put non so se era Giovanni ok facciamo la put va bene quindi put di API exams code questo è un commento quindi possiamo scriverlo come vogliamo quindi app punto put la url API slash exams slash due punti code in questo caso ci serve chiamarlo due punti rec e res come prima aperte graffe no poi vedete è tutto no definire le route è abbastanza meccanico una volta ho finito una addirittura una volta che ho definito questa get e volessi farla su corsi faccio copia ancora di questo cambio questo metodo cambio questo nome delle variabili e ho fatto anche quello su corsi quindi magari con piccole modifiche perché poi è molto meccanico molto simile l'uno all'altro stavolta facciamolo con async await così avete anche l'altro esempio quindi dato che vogliamo usare a un certo punto scriveremo dao punto create exam e questo torna a promise e faremo await di questa roba qui e quindi abbiamo bisogno della sync qui allora cosa dobbiamo fare qui poi ci preoccupiamo di validare quello che abbiamo ottenuto ma adesso facciamo finta che la validazione sia andata a buon fine e la aggiungiamo dopo la validazione con questa express validator dov'è l'oggetto intero che dobbiamo aggiornare in quale variabile l'abbiamo se noi facciamo constant exam come la riempiamo questa variabile questo è l'oggetto che dobbiamo aggiornare questo è l'exam to update vi ricordate dove lo possiamo prendere lo prendiamo da rec sicuramente ma dove da dove da rec no download è solo per il rest non è per per il rec param ci permette di prendere questo che però non è l'intero esame che dobbiamo prendere e quindi sì body perché è una put quindi riceviamo il codice nell'url che per realtà in questo caso non ci serve perché il codice ce l'abbiamo anche nella richiesta nel corpo della richiesta quindi rec.body rec.body che arriverà in json e automaticamente questo middleware la trasformerà da un json testuale in un oggetto javascript corrispondente quindi facendo rec.body prendiamo davvero l'oggetto javascript che è derivato dal json che arriva attraverso il middleware middleware che si applica a tutti le root quindi abbiamo questa richiesta volendo potremmo controllare che il codice di questa richiesta corrisponde al codice da rec.param possiamo farlo se vogliamo e a quel punto quindi possiamo dire if rec.params .code è uguale a exam to update .code come ulteriore controllo se non ci fidiamo o se vogliamo evitare problemi malevoli quindi questo codice qui deve essere uguale al codice che è dentro l'oggetto no? così è un controllo successivo creiamo non creiamo perché questo è l'aggiornamento update exam con exam to update cosa ci restituisce exam to update andiamo a vedere perché qui non c'è scritto ritorna promise ma andiamo a controllare che cosa faceva esattamente exam to update ecco qua update exam ritorna l'id dell'ultimo esame aggiunto dell'ultimo esame modificato dell'unico esame modificato se va bene altrimenti ritorna un errore e noi nel caso della put dobbiamo ritornare 200 o 503 se c'è un errore nell'aggiunta se stiamo per esempio aggiungendo un esame già esistente come qua questo non l'avevo cancellato un errore generico non riesco a farla query quindi update exam quindi mi restituisce l'id dell'esame modificato ma la riga della tabella modificata non me ne faccio un granché nel caso del risolto perché tanto non devo restituire niente abbiamo detto l'update non restituisce niente quindi se sono qui e non ci sono stati problemi allora faccio res punto status 200 punto end e questo è l'equivalente del den che abbiamo fatto prima questo res status 200 ora nel caso in cui la promise non venga risolta dobbiamo fare il punto catch come abbiamo fatto prima allora come si fa con la wait to sync se ricordate lo si fa col try catch quindi try questa cosa qui catch error e in error andiamo a scrivere l'equivalente dell'altra volta res status 500 500 in questo caso dobbiamo scrivere 503 quindi res punto status 503 e se vogliamo possiamo anche passare un messaggio d'errore quindi mandare un json indietro che dica error due punti database error during the update of exam e mettiamo per esempio il codice quindi exam to update punto code per esempio quindi se va tutto bene resitiamo 200 se c'è un errore nel database resitiamo un errore tipo non so l'esame non esiste ci manca la validazione allora la validazione ci serve solo in questa put ci si verrà nella post e se ricordate come si fa la validazione con express ci serve qui un parametro che identifica la funzione da chiamare in questo caso non dobbiamo chiamare dei check dobbiamo fare dei check sui check sui parametri che arrivano nel corpo che sono codice score e data quindi possiamo fare il check che code per esempio abbia una lunghezza is length abbia una lunghezza minima di non lo so 7 7 e una lunghezza massima pure perché i codici di esami sono tutti da 7 poi questo è check con la k poi possiamo fare un check su score e dire che score deve essere un numero is int anche qui numero che va da cosa che va da 18 a un massimo di 31 non possiamo passare un voto minore di 18 o maggiore di 31 e infine abbiamo ancora un parametro quindi possiamo fare check sulla data che è is date quindi che sia una data vera e propria e possiamo anche indicare un formato della data in cui lo vogliamo che è esattamente il formato in cui l'abbiamo scritto nell'API quindi 4 volte l'anno il mese e poi il giorno e dobbiamo dire questo strict mode significa che accettiamo la data solo ed esclusivamente se in questo formato quindi questo formato non è suggerito è proprio il formato esatto in cui vogliamo la data per cui se uno scrive la data con giorno mese anno la validazione non va a buon fine quindi questo è i check che mettiamo tra il path e la callback di richiesta e risposta se questi check vanno a buon fine viene eseguito tutto questo se questi check non vanno a buon fine possiamo prendere gli errori in un validation result quello che abbiamo importato nella richiesta quindi gli errori se questi check non vanno a buon fine viene aggiornata dalla richiesta e quindi possiamo prendere eventuali errori e nel caso in cui questi errori se error se questi errori allora errors non è vuota se questo ci sono degli errori lì dentro quindi la validazione è notata a buon fine allora faccio return res.status 422 come abbiamo scritto nel documento e possiamo dire json errors due punti errors punto array che prende l'oggetto gli errori di validazione e li restituisce al client che se ne farà qualcosa quindi se non entro qua dentro vuol dire che non ci sono errori e posso procedere non faccio return e quindi posso procedere con la con l'inserimento con l'aggiornamento corretto e una cosa molto simile capita con la post si può aggiungere un min max a data non mi ricordo quindi facciamo express validator e andiamo a vedere date no dov'è qua date date a un is after si potrebbe validare con is after se volessimo avere un minimo e lì diciamo è una data di quel formato se poi vogliamo anche dire e dopo una certa data possiamo scrivere check.date is after e suppongo ci sia anche un is before ecco qua is before e allora fa il controllo di tutto quindi qui potremmo anche scrivere se vogliamo un altro check su data che dica is after qualcosa o is before o qualcos'altro quindi possiamo aggiungerne altri check tutti i check che vengono messi qui vengono eseguiti una alla volta quindi conteremo prima che data sia una data e poi che sia una certa dopo una certa data o prima e l'altro quello is date verifica solo che un oggetto sia una data non verifica così come questo e quindi non ha un campo a format solo strict mode non ha un campo min massimo se guardate sulla documentazione ok ora proviamo a vedere se questa roba funziona perché aggiorniamo questo esame qualunque cosa sia ora dobbiamo fare una put il browser non è capace a fare una put da solo quindi ci serve un tool per esempio questo rec bin che se avete installato una l'estensione di l'estensione di Chrome ma la fai installare quando ho provato a scrivere localhost qui io ce l'ho già installata qui scrivete l'indirizzo 3001 slash api slash exams e potete scegliere il metodo http in questo caso proviamo get e potete scegliere se c'è un token di autenticazione se c'è del contenuto nel body della richiesta se c'è un header e vedere anche la richiesta raw grezza e ce ne sono altri di questi tool c'è postman che è un altro tool che si può utilizzare c'è rest client per firefox ma esiste anche rest client per viso studio code che fanno tutti questa cosa dato un indirizzo ti permettono di fare della richiesta http quindi qui se facciamo la get vediamo che otteniamo lo stesso risultato che ottenevamo nel browser prima senza questo questo strumento qui server lo lasciamo andare e vedete che qui compare get API exams 200 quindi ha funzionato abbiamo implementato la put quindi mettiamo qui put andiamo in content assicuriamoci che qui ci sia scritto json application json perché questo è il content type a cui passiamo nella richiesta e qui andiamo a mettere l'oggetto json copriamo da qua perché ok l'oggetto json che vogliamo aggiornare e quindi noi vogliamo invece di 30 di 31 mettere 25 ok e lasciamo la data così com'è e se facciamo send controlliamo che prima di tutto funzioni se facciamo send certo e aggiorniamo l'indirizzo quindi dobbiamo fare una put non su exams perché non esiste ma dobbiamo fare una put su exams codice se facciamo send vedete che ritorna 200k e anche il server dice che ha ricevuto questa put a questo indirizzo e ha restituito 200k quindi se noi adesso andiamo a togliere il codice e facciamo una get vediamo che l'esame effettivamente è cambiato non è più 31 ma è 25 proviamo a scatenare un errore di validazione mettiamo 5 come but e vediamo cosa succede se funziona la validazione facciamo di nuovo send con la put su il codice e vedete che arriva 422 un processable entity e l'errore dice che il valore 5 su score è invalido però perché non ci dice come correggerlo perché dovrebbe essere nella documentazione di chi usa queste API che il minimo è 18 ma ci dice che il problema è qui quindi questo viene l'errore sul database non saprei come scatenarlo in questo momento se proviamo ecco proviamo a dargli un codice che non esiste 01 ABC vediamo cosa succede la validazione in realtà è troppo corto viene imbarcato sulla validazione ABC perché sono 5 D D D E devono essere 7 ah sì qua mettiamo un codice che però sia valido e abbiamo impiantato tutto in questo caso ok a un certo punto va in tem out perché non riesce a gestirlo quindi in questo caso il database non dà errore ma perché la query è corretta ma va in tem out il tutto perché non riesce ad aggiornare l'esame quindi questo volendo un altro caso che si può gestire nel caso in cui ci sia un esame sbagliato ah in realtà qui è colpa nostra è questo controllo dell'IF quindi se questo non va bene possiamo fare else return res.status se è sbagliato possiamo dire 503 .end per esempio poi possiamo dargli un messaggio ok oppure .json error not existing existing an exam with code does not exist per cui se facciamo appunto la richiesta su un codice che non esiste possiamo così ottenere non solo un 503 ma anche il messaggio che dice che un esame col codice è così non esiste e qui vediamo che ha scatenato correttamente un 503 perché il codice dell'url non corrisponde al codice qui quindi questo in realtà è più corretto dire wrong code in the request body perché l'IF controlla che i codici siano corrispondenti ok io come vi dicevo adesso carico questo su github poi nell'altro repository che si chiama react score server e trovate una soluzione completa magari non identica a questa ma anche una soluzione col post con gli altri get così avete un esempio completo di tutte le API implementate da poter guardare ma immaginerete che la post è per esempio uguale a questa invece di scrivere put scriviamo post gli errori la validazione è la stessa perché l'oggetto da validare lo stesso qui invece di update ci sarà create exam questo non c'è quindi cambia poco ma tutto sommato il codice è tutto sommato simile domande che sono le undici e mezza ora va bene se qualcuno vengono in mente delle domande può iniziarle a scrivere io intanto fermo la registrazione e vi auguro un buon prossimamente di giornata di settimana e ci vediamo giovedì prossimo giovedì prossimo lunedì ci sarà la prima parte del nuovo Big Lab e domenica sera entro fine giornata la consegna del Big Lab 1 per i gruppi che vogliono consegnarlo se avete domande scrivete pure su Slack in questi ultimi minuti altrimenti buongiorno a tutti e arrivederci